che Wales avrebbe apprezzato è anche in qualche modo una straordinaria operazione di marketing perché una piattaforma che nel festival di Cannes è andata incontro a una serie di polemiche per essere è stata in qualche modo tacciata di essere la piattaforma killer del cinema così come oggi lo intendiamo di fare della concorrenza sleale fondamentalmente far riemergere un pezzo di storia del cinema che il cinema stesso sembrava non interessato a far riemergere di ricollocarsi in qualche modo sì 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 assolutamente bene salutiamo Gabriele grazie per essere stato con noi e noi vi facciamo sentire alcune clip tratte appunto da questo film di Orson Welles che viene distribuito su Netflix a partire da novembre dal 2 novembre dal 2 novembre eccolo qui bene siamo quindi giunti alla fine della seconda puntata dei Magnifici 7 eccezionalmente registrata dalla mostra del cinema di Venezia vi diamo appuntamento a settimana prossima anticipandovi che il film della settimana sarà Mission Impossible Fallout grazie a tutti e a settimana prossima ciao a tutti